Due auto si sono scontrate in via Spineta, tre i feriti. Il fatto di cronaca si è verificato nella giornata di ieri. Ancora al vaglio degli inquirenti la ricostruzione dei fatti. Tre i feriti condotti con i mezzi di pronto soccorso allo Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Due erano nella Ford guidata da un 46enne di Battipaglia con il figlio 13enne ed il conducente della Opel con prognosi tra i 20 ed i 30 giorni. Insomma ancora una volta via Spineta protagonista in negativo con gli incidenti che sono in aumento così come in tutta la zona litoranea come ad esempio nel tratto di zona Lago dove si sono registrati anche lì la scorsa settimana altri scontri.